Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di buffer e cedimento. Hot topic, però ci sono un po' di punti che devono essere chiariti e in qualche modo facciamo un po' il meetbuster, cioè cerchiamo di rispondere a delle misconceptions, scusate i termini, sono tanto in inglese mi vengono, a delle, vabbè non so come si traduce, che ci sono, che girano riguardo al bodybuilding sul cedimento e sul buffer. Allora, prima di tutto, anzitutto, discorso riguardo al cedimento. Non puoi allenarti a cedimento sempre perché non esiste che puoi dare sempre il massimo. Nello sport, nella programmazione, non si può dare sempre il massimo, il 110%, non esiste questa cosa. C'è una programmazione per utilizzazione in tutti gli sport che ci sono up and down e si modulano le cose, quindi allenarsi a cedimento, sempre a cedimento, è insensato. Ora, la cosa che dico, così a priori, io sono arrivato a dire di allenarsi sempre a cedimento, questo dare il 110% in ogni cosa, cioè questa è un'aggiunta, non è che se io vado a cedimento do sempre il 100%, perché? Per due ragioni. La prima ragione, di cedimento ci sono diversi gradi, ok? C'è un cedimento tecnico che è molto vicino al buffer, cioè, quantomeno il tecnico mi ci arrivi, perché è proprio la base, ok? Quello del cedimento tecnico. Qual è il cedimento tecnico? Io sto facendo la serie, faccio l'ultima ripetizione possibile, che riesco a fare con una buona forma, senza rompere lo schema motorio, la chiudo, e l'altra ripetizione, magari ho tutta l'eccentrica da fare, una mezza ripetizione, però non riuscirei a chiuderla. Quindi l'ultima che riesco a fare con una forma impeccabile è il cedimento tecnico. Preservo la tecnica. Perfetto. Ma ci sono diversi gradi, c'è un cedimento concentrico, isometrico e eccentrico. Se ti interessa un video sul cedimento, scrivimelo qua sotto, ma ho fatto dei reel su Instagram super interessanti. Quindi seguimi su Instagram, seguimi qua su YouTube, seguimi ovunque, perché sto ovunque, quindi faccio contenuti diversi in ogni social, per cui. Quindi il discorso fondamentale è che il cedimento tecnico è molto semplice, poi ci sono diversi gradi, quindi già con questo io dico, arrivare sempre al cedimento, che cosa vuol dire? Almeno un cedimento tecnico come concretizzazione. Mai in un cluster set non devi fare cedimento su tutti i cluster, ma soltanto alla fine. Abbiamo parlato del cluster set, vatti a riprendere il video. Però cedimento toccamelo, alla fine. Alla fine me lo tocchi, ok? Con concretizzazione, almeno il cedimento tecnico. Poi in un allenamento ci sono, per logica di cose, dei momenti di picco, che sono i momenti che creano lo stimolo, che suscitano lo stimolo, e dei momenti di valle, che sono necessari affinché ci sia il picco, perché non puoi stare sempre in picco. E siamo d'accordo. Però sempre nell'alveo di quello che è l'allenamento al cedimento, portando tutto a cedimento. Ok, ma secondo punto fondamentale, io quando parlo di cedimento, ammesso e non concesso, perché abbiamo visto prima che è una cazzata, però ammesso e non concesso, che io sparo tutto al massimo sull'intensità percepita, tutto quello che posso dire. L'intensità percepita è solo una delle variabili, ne ho altre tre. Ok, c'ho la densità, l'intensità di carico, il carico che utilizzo, è il volume, e su queste posso giocare. Cioè, il fatto di andare e portare la serie a un certo grado di intensità non vuol dire dare sempre al massimo, perché anche andando al massimo, su quello ho altre variabili che posso programmare. Posso partire ad un'intensità altissima, volume basso, l'aumento gradualmente e raggiungo l'overishing scarico. Questi sono dei modelli di programmazione che noi utilizziamo, che ci stanno quando la persona deve imparare a gestire l'intensità, perché va imparata. Come cosa? Quindi questo discorso del non puoi andare sempre al massimo, il cedimento non vuol dire andare sempre al massimo. Mi spiace deludere chi è, però non vuol dire andare sempre al massimo. Altro punto è il discorso del se ti distruggi crei danno muscolare. Di nuovo, quando noi diciamo mi sono distrutto in sala, cioè è un termine utilizzato in maniera volgare, ok? Cioè, non intendo che mi sono distrutto, per distruggere, nel senso si dice, no? Sto distrutto, no? Non so come spiegartelo, perché mi sembra di parlare con bimbi. Vabbè. Logicamente, non è che io ti dico sto distrutto perché sto creando danno muscolare. No. Allora, il danno muscolare, fermo restando, specchietto, tutto una cosa che c'è, non entriamo nei dettagli. Però, danno muscolare deve essere il giusto. Ci deve essere, ma non deve essere esagerato. E su questo, bene o male, siamo tutti d'accordo. Poi c'è chi dice, danno muscolare non ci deve essere. Ci deve ancora spiegare come fare a eliminare il danno muscolare. Ovviamente non si può eliminare, così lui decide, proprio, padre eterno, ah, non c'è più danno muscolare in questa forma. C'è sempre, ok? Si crea un danno tessutale. È normale. Ha dei processi anabolici, porta dei processi anabolici, però non deve essere esagerato, perché ovviamente compromette il recupero. però l'allenanza e l'accidimento si basa proprio sul ridurre il danno muscolare, perché esso è correlato, in particolar modo, al volume di lavoro che facciamo, in questo caso generico, non numero di serie necessariamente, però il volume, le ripetizioni, se vogliamo, il tempo sotto tensione, che facciamo durante la nostra sessione. Cioè più noi lavoriamo, ok? Più volume facciamo, più roba facciamo, più si crea danno tessutale. Per fare un esempio, quando le persone si allenano a basso volume, molta intensità, di solito hanno pochi DOMS. Quando si allenano ad alto volume e intensità bassa, dove per intensità, parlo forma perfetta, quindi non gli allenano ad alto volume in cui uno si esponde, eccetera, la normalmente hanno veramente tanti, tanti DOMS, che sono sintomatologia di quello che è un danno tessutale, accumulo di ioni H+, nel citoplasma, eccetera, eccetera. Insomma, la storiella la conosciamo. Però, il cedimento serve a questo. Perché? Perché il cedimento è, le ripetizioni al cedimento, è laddove lo stimolo è esponenzialmente maggiore. Questo è stato rivisto in letteratura da un'ultima meta-analisi molto interessante, che è l'unica meta-analisi e studio in letteratura che si è espresso, in realtà, su un comportamento, una funzione, ok? Cioè, un comportamento in funzione, cioè proprio con gli asti cartesiani, eccetera, dei meccanorecettori di attenzione meccanica, dello stimolo, in generale, ipertrofico. Perché gli altri erano tutte ipotesi che erano state fatte, attenzione, questa è una bella differenza, fuori dall'ambiente elettrico, cioè, magari da ricercatori, eccetera, ma erano ipotesi, non erano cose pubblicate su materiale scientifico, erano tutte ipotesi di come poteva essere un andamento, eccetera. Quello che ci dice questa metamalisi recente, del 2023, l'avete visto tutti quanti, insomma, l'andamento è esponenziale, ma è una cosa che sapevamo già, perché ci sono tanti studi sul comportamento proprio istologico di quelli che sono i meccanorecettori, e questo è un andamento esponenziale. Quindi, sostanzialmente, io, quando sto vicino al accendimento, lo stimolo è molto efficace. La fatica, intesa in senso tecnico, come fatica cronica, quindi quella da cui devo recuperare, poi ci sono tante tipologie di fatica, come anche tante tipologie di stimolo, però la fatica è lineare con il volume. Quindi, che cosa vuol dire? Io più lavoro vicino al accendimento, più questo rapporto tra stimolo e fatica è ottimizzato, quindi più cresco, più lavoro fuori dal accendimento, meno cresco, e questa è la teoria che poi è sfociata in quelle che sono le effective reps, cioè le ripetizioni efficaci per la biorettrofia sono quelle vicino al accendimento. Ora, la teoria delle effective reps dicono l'andamento del logaritmico, la realtà è esponenziale, vabbè, comunque, ci hanno quasi preso. Il discorso fondamentale è che nel momento in cui io dico io non vado a cedimento perché così faccio più serie, io sto che cosa dicendo, non vado dove c'è più ipertrofia per lavorare il grosso del mio workout dove c'è più ipertrofia, dove c'è meno ipertrofia, quindi sostanzialmente creo meno stimolo e più fatica. Sto crescendo meno. Ma allora, perché dicono così? Qua un problema, ragazzi, fondamentale, è imbarazzante da dire per alcune persone che hanno fatto sarà imbarazzante per loro, però è un problema di traduzione degli studi. Ossia, quando in uno studio, no, tu hai uno studio, sti poracci hanno scritto uno studio intero, ok? Non hanno scritto solo l'abstract. Se tu leggi solo l'abstract, qualcosa te la perdi. Se non cogli e non traduci la terminologia, ti perdi ancora di più, ok? Quando si parla di fatigue, fatica, non è la fatica che fai, la fatigaccia, mamma mia, una fatica, sta salita è una fatica, è un termine scientifico, tecnico per riferirti a una tipologia di fatica che deve essere recuperata. Quindi quando si fa l'associazione, qual è il passaggio che sono fatto? Siamo visti in questi studi dove dice della limitazione della fatica quello che genera la fatica, eccetera. Altri studi che parlano del volume come primario è un meccanismo per creare ipertrofia. Faccio fare tre serie a settimana di un esercizio a dei neofiti, gliene faccio fare dieci, gliene faccio fare venti, vedo che crescono più che le venti, grazie al cazzo sono neofiti, anche là la capacità un attimo di analisi se io paragono ovviamente che cosa faccio? Ah, mi sta dicendo che più volume cresco, ah, mi sta dicendo che devo fare meno fatica, è fatta, non fa una piega, è torto così, l'evidenza scientifica ci dice che non mi devo allenare a cedimento perché va di caccia arriva a cedimento, cioè tosta, tosta, quindi non mi devo allenare a cedimento e devo fare tanto volume, quindi che cosa faccio? Non mi alleno a cedimento, non vado a cedimento, ma faccio più serie, per fare più serie non devo andare a cedimento, se non vado a cedimento riesco a fare più serie, tutto torna, è perfetto, l'evidenza scientifica ci dice che mi devo allenare a buffer, capito come è nata la storiella, cioè, così è nata la storiella, mi spiace, in realtà il discorso è proprio che il termine fatica era un termine specifico della fatica cronica, cioè arrivare a cedimento è faticoso, perché? Perché è un discorso di sopportazione del dolore, ok? non è faticoso come fatica, perché la fatica ha un andamento lineare, quella ripetizione, ma in realtà tempo sotto tensione in più, viene percepito a livello di recupero nello stesso modo, perché il tasso di accumulo di ioni calcio è quello, bene o male, poi tutte le altre tipologie di fatica sono delle tipologie di fatica che intervengono, che mi fermano, ma sono fatica acuta, che è quella che mi interrompe da non fare la serie che recupero dopo poco tempo, perché dopo poco tempo posso, anche facendo meno ripetizioni, ma posso rifronteggiare, cioè recupero qualcosa in poco tempo, ok? Quegli altri meccanismi li recupero, ma quello cronico è lineare, lineare, a quello che è il volume che noi facciamo, e per quanto riguarda il volume è stessa cosa, è vero che sul neofita il volume è senso e tutto il resto, però quando andiamo a vedere sull'avanzato il concetto di volume non è tanto le serie che vado a fare, ma il concetto di volume è il tempo sotto tensione stimolante, cioè il volume inteso il tempo che il mio muscolo fa ripetizioni, fa roba, ma dove? Non in generale, ma su quelle che sono delle effective reps, quindi vicino al scedimento, quello è il volume che a me interessa, ma logico se aggiungo una serie avrò più tempo sotto tensione stimolante, ma avrò anche fatica, un neofita ci fa poco, ma un avanzato vi posso assicurare che se io ti dico fammi una serie più di pressa, è tanta roba, capito? Da neofita non te ne accorgi, 3, 4, 5, vabbè, fatta, sull'avanzato un po' più tosta, ok? Ma qua avviene la cosa, cioè nel bodybuilding natural devi creare la forza, perché nel bodybuilding enhanced vai così, sto crescendo, sto crescendo, mi vedi che cresco, cresco, vabbè, devi creare forza nel bodybuilding natural e si può fare soltanto in buffer, perché? Perché nel powerlifting si fa in buffer, qui ho preso una decimina completamente differente, ce la butto in mezzo così, no? Tipo così, prendo, non lo so, il salmone al forno e lo schiaffo, non lo so, nell'insalata, in una lasagna al sugo col macinato, cioè così a cazzo mettete le cose. Allora, il powerlifting è uno sport in cui si lavora l'alzata, non il muscolo. Se io devo far crescere il massimale in un'alzata, io non posso andare oltre al cedimento tecnico, quindi è logico che il cedimento tecnico, il mio cappello, ok? Perché non posso andare oltre alla tecnica, non ha senso, salvo lavori più specifici, al grosso lo farò sotto. Io sto allenando l'alzata, sto allenando la forma, devo preservarla e c'è una ripetizione di tre gesti fondamentali che sono quelli che devo fare in gara. Capisci? Così, no? Ti sfiora la testa, la mente, l'idea che è una cosa diversa rispetto al bodybuilding. Nel bodybuilding, perché la forza è importante nel bodybuilding? La forza è importante nel bodybuilding in senso specifico. Cioè anche nel PL un powerlifter, se lo metti a fare gare di strongman, è una pippa al sugo, ok? Magari sullo stacco fa qualcosa, ma quando deve fare le viking press o deve correre o deve sollevare le macchine non ci riesce. Perché? Perché ha aumentato la forza, ma in maniera specifica. Nel bodybuilding pure la forza è specifica, ok? Ossia che cos'è? La forza mi è utile a un transfero ipertrofico quando? Quando è una forza che io posso trasferire e che ho su lavori ipertrofici. Quindi lavori che vanno dal 5 RM fino al 12-15 per un avanzato anche fino al 20-30-40 RM su alcuni schemi, alcuni compound e questo è un altro tipo di discorso. Però diciamo per semplificare al 5-12-15 quello che ti pare. Quindi un rep range che non è un massimale, ok? E già sono due cose molto differenti e una forza su schemi di bodybuilding. Quindi una tipologia di lavoro che ti permette non di aumentare il carico assoluto sul bilancio e sti cazzi del carico. Cioè quando sali su un palco non gli frega un cazzo a nessuno di quanto sollevi. Te lo posso assicurare. Al giudice non gli frega un cazzo di quanto sollevi. Zero. L'interessa quello che vede. Quindi quello che ci interessa è avere meno carico esterno in favore del carico interno. Quindi già gli schemi, l'approccio anche a quella che è una banca piana, uno stacco, sono molto diversi. Io voglio essere forte sti cazzi di essere forte ma se sei forte su altre cose poi c'è un transfer. Ok. Quindi mi stai dicendo se devo andare a fare il pilota di Formula 1 guarda che se tu guidi sul raccordo annullare c'hai un transfer pure sulla Formula 1. Sì che c'ho il transfer però capisci? Cioè nel senso becco il traffico tipo sempre. Ok? Ma il transfer quanto grosso può essere? Lo capisci? Se voglio fare il pilota di Formula 1 cosa faccio? Mi alleno con la Formula 1. O no? Cioè non è che mi metto a fare MotoGP perché c'hai il transfer perché comunque prendi confidenza con la pista. Mi alleno con la Formula 1. Quindi sti gran cazzi che sulla bianca piana c'ho un transfer sull'Ace Express. Sì! Ma se voglio diventare forte sull'Ace Express lavoro l'Ace Express! Cioè così ti è manellato in testa. Infatti l'approccio in generale che porta bodybuilder più forti in assoluto è Progressive Overload. Voi andatevi a vedere la scuola UK io vivo in UK qua è nato è rinato diciamo il Progressive Overload moderno che è il Chasing the Log semplice c'ho due serie una da 8 una da 10 porto tutto a cedimento ogni volta devo battermi boom semplice ogni volta torno faccio quello se supero le ripetizioni aumento il carico se non riesco a superare le ripetizioni metto lo carico e punto a superare le ripetizioni semplice porto tutto a cedimento a cedimento estremo oh sono forti sono forti sono molto più forti di qualsiasi atleta natural ci sia in Italia fanno roba allucinante guardate Keithy West guardate E.J. Morris salendo a una palestra mia Keithy West ti fa più di 300 kg di stacco e ti zietto così eh picchietto E.J. Morris fa 7 pizze per parte sul Cybex Hack Squat avete mai provato il Cybex Hack Squat senza elastici 7 pizze per parte è disumano eh ma non è uno squat e capirai con l'Hack Squat provaci provaci prendi un powerlifter e farglielo fare vediamo se te lo fa eh ragazzi è tosta e sono una tele di natural l'oscita di natural poi sul palco hanno un tipo di densità eh che cazzo non trovi da altre parti ok quindi accendiamo qualche lampadina boh te la butto là qualche riflessione fammi sapere che cosa ne pensi qua sotto nei commenti e ricordati di seguirmi un po' ovunque quindi Instagram TikTok YouTube noi ci vediamo al prossimo video